Ha difeso un'amica da un bullo che la stava importunando, si è ritrovato con cinque punti di sottura in bocca, un ematoma sulla schiena, un occhio gonfio e il setto nasale rotto e deviato. Brutale aggressione fuori dalla discoteca Stori a Santa Giustina in Colle. La vittima è un diciottenne di Camponogara pestato a Sanque da due bulli nel parcheggio del locale la notte tra sabato e domenica. Uno dei due aggressori aveva importunato l'amica del diciottenne e lui all'uscita della discoteca l'ha difesa ma è stato preso a calci e pugni. A salvarlo l'intervento dei buttafuori che hanno bloccato i due violenti. Ora il giovane si è rivolto a un avvocato e sporgerà denuncia ai carabinieri.